Musica Ben ritrovati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi parleremo di spese condominali. Come devono essere suddivise in caso di vendita o acquisto di un immobile? Musica Parliamo del problema assai sentito e oggetto di moltissime richieste e dichiarimenti che è rappresentato da chi è tenuto a pagare le spese condominali arretrate o comunque residue nel momento in cui interviene una compra-vendita di immobili. È motivo di frequentissimo scontro, di frequentissimo procedimento giudiziale e quindi la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsene in tantissime occasioni e di fare un po' di chiarezza. perché dobbiamo dire che la legge ci aiuta in maniera letterale soltanto per quanto riguarda l'aspetto delle spese ordinarie, un po' meno per quanto riguarda quello delle spese a carattere straordinario. Ma andiamo con ordine e con la consuetta praticità. Allora, quando interviene l'acquisto di un immobile, la legge dice chiaramente a tutela del condominio che è colui che subentra nella proprietà dell'immobile per quanto riguarda le spese ordinarie, condominiali ordinarie, è responsabile in maniera solidale, quindi allo stesso modo, con il vecchio proprietario per quelli che sono i costi dell'anno in corso e dell'anno precedente. l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Ricordiamo, per capirci fino in fondo, che anno in corso vuol dire anno contabile, non necessariamente anno solare, quindi questa valutazione dipende da come i diversi studi di amministrazione compilano e tengono il bilancio del condominio. Quindi parliamo di annualità contabile. Cosa vuol dire essere responsabili in solido? Vuol dire che se, come sempre accade, il condominio in caso di spese arretrate impagate si rivolge al nuovo proprietario che sarà tenuto a pagarle, il nuovo proprietario si potrà rivolgere per la rifusione, la restituzione al vecchio proprietario. La legge quindi consente questo meccanismo di rivalsa. Quindi, come vediamo, per quanto riguarda le spese ordinarie, la situazione è abbastanza chiara. Diventa meno chiara quando si tratta delle spese di carattere straordinario. Quindi gli interventi di ristrutturazione straordinaria sull'immobile, tutte quelle spese che non rientrano nella ordinaria gestione del condominio. E' intervenuta la Cassazione negli ultimi cinque anni con delle sentenze piuttosto chiare sull'argomento. E' stato individuato il criterio assolutamente semplice e di facile intuizione che ci dice a chi si debbano addossare questo tipo di spese. Contrariamente alla disciplina delle spese ordinarie, la Cassazione ha stabilito che il concetto cui bisogna fare assoluto riferimento, il concetto giuridico è la proprietà dell'immobile nel momento in cui vengono effettivamente deliberati e approvati gli importi delle spese straordinarie. Questo che cosa vuol dire? In parole molto semplici, che nel momento in cui l'Assemblea ha approvato e deliberato le spese di carattere straordinario, quindi quelle per interventi di grossa ristrutturazione e di sostituzione di rinnovazione di parti condominali, dobbiamo fare caso a chi era l'effettivo proprietario dell'immobile in quel momento. Quindi nel momento in cui l'Assemblea decide che occorre fare delle spese di carattere straordinario, le dà in appalto e viene chiarito in maniera analitica quello che è il contributo che deve pagare ogni condomino in relazione a questi interventi, in quel momento si stabilisce chi dovrà pagare fra vecchio proprietario e acquirente queste spese di carattere straordinario, perché saranno addossabili solo a chi era in quel momento l'effettivo proprietario. Per capirci, quindi se le spese vengono deliberate prima o anche poco prima della vendita del mio appartamento, io anche se poi nei mesi successivi perché ho venduto l'appartamento non mi gioverò più di questi lavori straordinari, dei miglioramenti che il mio condominio ne avrà, sarò comunque tenuto a pagare in ogni caso le spese, anche se i lavori vengono fatti successivamente quando io non sono più il proprietario effettivo dell'immobile. Il bonus Renzi del 2018. Quali saranno le nuove regole? Noi abbiamo girato la domanda all'Avvocato Pollastro. Buonasera a tutti, stasera voglio tentare di fare, dare qualche risposta, fare un po' di chiarezza su un istituto che è ormai stato confermato anche per il nuovo anno 2018, sto parlando del bonus fiscale di 80 Euro che è passato un po', come dire nel linguaggio comune, come il bonus fiscale Renzi. Allora sappiamo che cos'è, cioè in busta pagna il lavoratore che ha alcune fasce di reddito che poi dirò, percepisce una somma pari a 80 Euro che su base annuale vuol dire 960 Euro su base annuale. Prima cosa da chiarire sul quale, non riesco a capire per quale motivo, ma si è creata non poca confusione tra la gente. Non è una erogazione in più, cioè non è un bonus, una somma che viene data in più, ma è una somma che viene detratta dalle tasse, è una riduzione delle tasse. Il che vuol dire? Vuol dire due cose soprattutto. Primo, che non è un reddito e quindi non va su dichiarato, non va dentro agli aspetti fiscali, ma soprattutto il problema è che se uno non ha avuto un reddito tale da determinare tassazione non ha diritto agli 80 Euro, perché si dice il suo reddito è incapiente, cioè non è sufficiente per consentire il rimborso. Allora, la soglia al di sotto della quale il lavoratore non ha diritto a questo bonus sono gli 8.000 Euro su base annuale. Ma come? Uno a meno, a poco e a proprio lui gli viene data il bonus. È così il meccanismo. L'impalcatura della norma non è una erogazione in più, ma è una riduzione ribadisco di tasse. Ho parlato della soglia minima, c'è anche una soglia massima che era, ricordiamo, 24.000 Euro, che a decorre con il 2018 diventa 24.600 Euro su base annua. Sappiamo anche, per la precisione, non voglio dire cose inesatte, che uno ha diritto anche se il suo reddito va dai 24.600 Euro ai 26.600 Euro, cioè la soglia finale è 26.600, ma da 24 a 26 c'è una progressiva riduzione. In buona sostanza, se uno ha 25.600 Euro, avrà diritto a metà, invece che 80 Euro, a 40 Euro mensile. A questo punto che cosa succede? Succedono alcune vicende che nel corso dell'anno il lavoratore è partito con un reddito basso e magari poi questo reddito è aumentato e quindi alla fine dell'anno, presume o ha raggiunto e superato la soglia. Oppure può succedere anche l'incontrario, che uno comincia l'anno, per qualche mese si trova in busta paga gli 80 Euro, dopodiché perde il posto di lavoro, non ha più il posto di lavoro, non lavora più e alla fine dell'anno è sotto gli 8.000. Che cosa succede? Vuol dire che il lavoratore è fuori dalle soglie e quindi se ha percepito nel frattempo delle rate, dei ratei di bonus, l'Inps glieli chiede indietro. Non è possibile. È così, glieli chiede indietro. Il che vuol dire che se uno si accorge che non ha più diritto al bonus perché ha superato la soglia, conviene informare il proprio datore di lavoro che in quel momento opera come sostituto l'imposta, affinché non venga più fatta l'operazione dell'erogazione del bonus, perché il lavoratore alla fine rischia di prendere questi soldi e poi doverli restituire. Altra domanda che mi è posta ripetutamente, se uno ha più di un rapporto di lavoro, magari due part time o più, in questo caso il lavoratore deve optare, deve indicare in linea di massima verso il datore di lavoro sostituto l'imposto principale per informare che uno dei due faccia l'operazione e che invece l'altra persona, l'altro datore di lavoro non faccia l'erogazione degli 80 Euro, se no ci troviamo con due erogazioni di 80 Euro e poi l'Inps li chiede indietro. L'ultimo elemento che voglio sottolineare molto sinteticamente, per avere diritto a questo bonus come sappiamo non occorre fare domanda, opera direttamente il sostituto l'imposta che è il datore di lavoro nel momento stesso in cui dà la busta a pagna. Ma se uno non ha il sostituto l'imposta, e sto parlando in modo particolare dei collaboratori domestici, colf, in questo caso il datore di lavoro non dà il certificato unico a fine anno, se lo dà comunque non è tenuto a darlo in linea di massima, non danno il certificato, la certificazione unica a fine anno, per avere il diritto al bonus la colfo, il colfa, deve fare lui la domanda, se no l'Inps non gliela eroga. Grazie, buonasera. Eccoci giunti al termine di questa puntata, vi ricordo la nostra mail, avvocati rispondono chiocciolaicomizio.it Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.